salve a tutti allora dovete sapere che io ho preso una fissa da un bel po' di decorare delle candele però non ho mai trovato effettivamente la cosa che potesse poi renderle speciali e magiche era sempre la solita incisione, sempre le solite cose e così mi sono detta di provare la tecnica della stampa delle immagini sulla candela ci sono tantissime tecniche in giro da quella che imprime l'inchiostro sulla candela a quella che semplicemente fa inglobare la carta alla candela stessa io oggi andrò a farvi vedere come realizzare le candele stampate lasciando che la carta venga inglobata dalla cera perché in realtà quella là sull'inchiostro stampato direttamente sulla candela non sono riuscita a comprenderne bene come realizzarle e come soprattutto rendere buono un tutorial facendolo non essere troppo costoso altro quindi quello che vedremo oggi è io ho comprato queste candele per Beltane e queste due qui le andrò a dedicare alle divinità e questa pensavo di farla per le lunazioni quindi semplicemente seguite il tutorial vedete poi come io ho realizzato sono delle candele veramente semplicissime io queste le ho pagate pochissimo in un tutto 50 centesimi ho visto che online in realtà i video tutorial che ho visto sono tutte quante con candele di Ikea o con candele di questo genere qua quindi magari potete iniziare a provare con candele di questo tipo e questa tecnica vale anche per le candele realizzate da voi quindi mi raccomando seguite e fatemi sapere se poi proverete questa tecnica allora per il nostro tutorial avremo bisogno di candele io adesso ne ho tre perché andrò a realizzarle tutte e tre insieme carta normale A4 per la stampa questa tecnica io la farò con un normale foglio di carta però se avete una carta velino o comunque una carta molto sottile più sottile del normale foglio A4 da 80 grammi potete tranquillamente utilizzare quello che è meglio perché in questo modo i bordi non si noteranno più di tanto poi carta forno asciugacapelli e tanta pazienza e quindi andiamo a vedere come realizzarle io adesso con grande precisione vado a misurare quanto è grande questa candela perché ovviamente noi dobbiamo stampare l'immagine in modo tale che comunque centri altrimenti se viene troppo grande non va bene allora io direi di farla di 5 cm di altezza e più o meno 4 cm di larghezza in modo che copra questa parte qua se la fate troppo 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 grande l'immagine potrebbe avere problemi e non staccarsi però fare l'effetto diciamo che si nota diciamo che è carta quindi una volta che avete preso la grandezza potete tranquillamente andare a lavorare sul file tramite Word basta che copiate o inserite l'immagine e con il tasto destro riuscirà scritto modifica dimensioni io comunque vi metto qui nell'info box le immagini che ho utilizzato io con la grandezza già fatta diciamo che dovete semplicemente stampare in modo che se volete potete tranquillamente ricostruire le candele come le ho fatte io queste sono appunto quelle dedicate al dio alla dea per beltein e la cosa bella di questo tipo di tecnica è che volendo potete anche scrivere un'invocazione o una lettera o cose così di dedicazione o una preghiera eccetera eccetera e potete poi incollarla dietro la candela in modo che funga anche da candela diciamo celebrativa ecco qua ho stampato le immagini alla fine ho deciso di optare per questa qua invece delle lune perché volevo fare una cosa su beltein e questa fotografia mi è piaciuta moltissimo in realtà erano leggermente diverse di colori ma ovviamente la mia stampante non ho capito per quale motivo mi ha stampato con questi colori qua ma va bene lo stesso non fa niente fa molto rosso beltein adesso vado a tagliare le immagini mi raccomando cercate di togliere tutto quanto il bianco lasciate soltanto l'immagine ho già tagliato un pezzo di carta da forno e vi mostro subito come procedere ora la cosa importante cominciando con una candelina alla volta è che la carta forno sia posizionata come potete vedere c'è questa parte qua e questa parte qua e questa è lucida praticamente quindi deve stare la parte lucida all'interno della nostra candela per esempio cominciando da questa qua che è la candela per Cernunnos andiamo a posizionare la nostra fotografia come noi vogliamo quindi cercando di metterla quanto più dritta possibile una volta che abbiamo la posizione prendiamo la nostra carta forno la passiamo sopra in modo che la blocchiamo completamente questa parte è importantissima perché la carta deve completamente tirare la fotografia aspettate che è un po' storta così potete vedere che dovete tenere la carta quanto più compressa contro la fotografia e cominciare ad andare col phon e capirete che la sta funzionando perché vedrete praticamente la cera che comincia a sciogliersi e la carta che comincia ad aderire mi raccomando se sentite che la temperatura è troppo alta prendete un panno per esempio io mi sto afficciando come diremmo a Napoli ho preso il mio guanto da cuore come avete notato ho capito che a parte che non so questa qua da dove si è uscita ho capito che ah no è cera ho capito che l'immagine si è integrata alla candela perché se vedete se notate è leggermente più scura di prima quindi andiamo a vedere la magia staccatela piano delicatamente ecco qua guardate che carina si poi potete tranquillamente sistemare i lati se c'è qualche pezzetto di cera così è proprio carina devo dire la verità non me l'aspettavo così carina e praticamente adesso la cera e il foglio sono diventati praticamente un tutt'uno è veramente molto molto carina procediamo con le altre io se vedete che per esempio in questo caso la cera è finita sulla carta da forno cambiate foglio altrimenti aderirà tutta quanta la cera addosso alle prossime candele adesso procediamo con quest'altra comunque il guanto io lo consiglio assolutamente perché è veramente caldo quindi andiamo a mettere la nostra bella dea qua e vedete la carta questa parte qua è la carta diciamo normale e questa è la carta più classificata quindi mi raccomando ecco qua perfetto vado a mettere di nuovo il mio guanto guardate allora adesso se ci fate caso aspettate che prendo di nuovo il mio guanto se ci fate caso adesso è opaca dopo la lavorazione poi sarà più vediamo subito ora io purtroppo non credo che voi riuscite a vederlo dal video ma effettivamente il colore poi cambia adesso andiamo subito a vedere la nostra candelina eccola qua che bella questa è venuta proprio bene tutti i pezzetti di cera in più potete siccome è ancora calda ma questa qualità di cera non è neanche la migliore probabilmente con delle candele migliori viene anche meglio però è proprio carina però secondo me questa poteva andare un altro pochino perché in questa qua per esempio io non sento neanche la differenza tra il foglio e la candela in quell'altra un pochino sì però direi che sono proprio carine ora la stampa non è venuta benissimo perché la mia stampante fa abbastanza schifetto però con una stampa fatta bene con delle candele fatte bene viene veramente carino ma è una maniera proprio economicissima ragazzi perché alla fine si tratta di un foglio stampato l'asciugacapelli e ce l'abbiamo tutti quanti a casa e delle candele ma le candele si trovano veramente da tutte le parti adesso procedo con quella alla grande che sono super emozionata eccola qua questa per sicurezza la faccio andare un pochino pochino in più in modo che ok vediamo subito indossiamo il mio super guanto in modo che la tengo bella stretta perfetto cominciamo io comincio sempre prima dagli angoli riuscite a notare come questa parte qua è chiara e questa parte qua è più scura vedete questa parte qua ha perfettamente aderito e questa parte qua che ancora non ho fatto ancora non ha aderito perfetto allora io comunque vi consiglio assolutamente il guanto da forno perché è veramente veramente troppo caldo vediamo wow bellissima sono veramente veramente soddisfatta veramente veramente bella un po' sottina devo migliorare nella tecnica però guardate quanto è bella sono veramente super contenta e poi alla fine i dettagli si vedono veramente bene cioè che bella sono felicissima guardate che bella e quindi tutte e tre eccole qua eccole spero vi piaccia questo piccolo tutorial che ho improvvisato perché in realtà stavo vedendo questa è bellissima non smetto di guardarla in realtà stavo un attimo vedendo quale tutorial farvi per per beltein e in realtà è sempre tutto basato un poco su quello che io faccio e poi ovviamente lo condivido con voi e siccome stavo trovando stavo cercando diciamo una maniera carina per fare delle rappresentazioni delle divinità un po' diverse questa volta perché se no facciamo sempre le stesse cose ho pensato a questa cosa e sono veramente molto soddisfatta del risultato fatemi sapere se poi fate anche voi questa cosa ragazzi è semplicissimo e come potete vedere l'immagine è perfettamente aderisce perfettamente alla cosa io l'unica cosa di cui non sono sicura e per il quale vi chiedo per favore di stare attenti è se queste immagini poi una volta che la cera si è sciolta possano prendere fuoco quindi per favore per favore state sempre attenti non lasciate mai le vostre candele incustodite perché non si sa mai perché comunque è fuoco e può essere pericolosissimo quindi io vi chiedo di stare attentissimi e per il resto niente sicuramente dopo questi due piccoli tutorial dopo il palo di maggio e le candele diciamo per gli altari vi farò poi un terzo video su come effettivamente io ho decorato poi il mio altare per Beltane ci vediamo nel prossimo video e un bacione eccoci qua queste sono le candele accese guardate che belle che sono sono tipo super super felice rendono veramente veramente benissimo io vi consiglio di però stare attenti perché questa è una cosa che ci tenevo a dirvi perché comunque stiamo parlando di candele stiamo parlando di fuoco di cose comunque pericolose eccetera eccetera quando voi realizzate queste candele state molto attenti perché la carta è pur sempre carta e per quanto come vedete è completamente attaccata alla cera è pur sempre carta quindi man mano che la cera si scioglie o si consuma oppure io la stacco piano piano non so se potete venire non so se si vede tan bene quindi per favore state molto molto attenti non lasciate le candele incustodite non mettetevi a lasciare la candela lì tutto il giorno accesa completamente da sola perché è pericoloso e potete comunque incappare in problemi io comunque per sicurezza man mano che la candela si scioglie io tolgo questo pezzetto della carta qua e magari poi in futuro vedrò di trovare il tutorial dove stampi proprio sulla cera in modo che si toglie il problema della carta le candele sono bellissime perché veramente sembrano stampate perché non si sente minimamente lo spessore della carta ma per favore state attenti per il resto guardate che belle che sono sono tipo super felice mi piacciono tantissimo io vi auguro un felice bel tein e ci vediamo alla prossima grazie a tutti